L'idea che per fare una psicoterapia devi conoscere la personalità della persona, devi fare un esame approfondito della persona, è soltanto un'idea. In terapia breve, per esempio, questo non viene fatto. Dovremmo pensare al fatto che nel momento in cui dici che per fare una psicoterapia, per aiutare la persona, devi riconoscere la sua struttura di personalità, magari fargli una M.I.M.P.I., eccetera, è un modo di concepire la terapia, è un modo di concepire la prassi terapeutica. Ce ne sono tanti di modi, come dice Amaricordare Michael Hoyt, di agnosis, di agnosis viene dal greco, di agnosis, cioè per mezzo della conoscenza. Ci sono tanti modi per conoscere l'uomo. Uno dei più strutturati ti chiede oggi in psicoterapia, in consulenza psicologica, di fare un esame approfondito della personalità della persona, però in terapia breve non si fa questo. In terapia breve si inizia già a vedere quali sono delle cose che la persona può fare per cambiare, anche che cosa già lei sta facendo, che può essere utile continuare a fare per aiutarla a cambiare. Quindi dobbiamo mettere un po' in questione certi modi di fare, certi modi di seguire dei processi di psicoterapia, certi modi di lavorare. Dobbiamo essere capaci sia di metterli in dubbio, sia però di capire perché si sono strutturati fin qui, sia capire qual è stata la loro importanza e qual è la loro importanza. Ci sono situazioni in cui un'analisi anche approfondita della personalità della persona, della storia, del suo passato, cose che generalmente non vengono fatte in terapia breve, sono invece utili, sono indispensabili. Quindi come psicologo tu devi sapere perché vengono fatte, con quali scopi, dove ti possono portare. E poi chiederti, ok, per questa persona in questo momento è la cosa migliore, è la cosa che mi può aiutare nel più breve tempo possibile. Sullivan, se non ricordo male, era uno di quelli che diceva che dovremmo cercare di fare prima la cosa più semplice. È stata detta da molti in realtà questa cosa. Nardone ha detto anche lui di iniziare dalla cosa più semplice, e poi aumentare la complessità. Steve Schaser anche ha detto di usare il rasoio di Ockham, cioè la cosa più semplice, probabilmente è la cosa migliore con cui iniziare. E spesso questo può essere un'ottima prossima, un'ottima linea guida da seguire per cominciare la psicoterapia. Si fa sempre in tempo aumentare la complessità, anche perché ricordiamoci che, per esempio, nella psicoanalisi è proprio probabilmente il fatto di aumentare la complessità che portò poi a aumentare la durata stessa della psicoterapia. All'inizio le analisi di Freud, le terapie di Freud, duravano giorni, settimane e mesi. E a me sembra che in molti modelli è successa la stessa cosa anche nella terapia cognitivo-comportamentale, per quanto la conosca io, e la mia conoscenza è indubbiamente mi dato, il fatto di aumentare la complessità, poi ha aumentato anche la durata stessa della terapia. Sicuramente ha permesso di rispondere a molte altre domande che erano rimaste senza una risposta, però quello che ci dobbiamo chiedere è è la via migliore questa per aiutare questa persona con questo specifico problema nel migliore e nel più breve dei modi?